Il premio sociale dell'umanità a Emiliano Marzili, uggile campione europeo, eseggero che il 24 gennaio si tenderà a Gerdano per la quarta volta il titolo europeo appunto. La premia il mitico Nino Larocca. Emiliano Marzili. E' che stia tentando di raggiungerci. Ho visto, c'era, mi stai sento. Emiliano, Emiliano. E' che voluto, buonasera, benvenuto. Emiliano Marzili. Il grande Dile Larocca. 80 incontri, 74, 87. Quindi, 80 incontri, 74 vittori, 53 per capo. Invece? 59 locaz. Buonasera, buonasera, buon anno e tanta salute. Senti stanchi, un po' di applausi, grazie. Grazie, grazie tantissimo. Io vi auguro buon anno e tanti auguri proprio del cuore, grazie a voi, grazie a voi che sono un vero italiano. Ora tu stai già portando la mano a tanti giorni che vogliono prendere questo sport. Ma in un momento io faccio un maestro fucilato. Cercavo di fare uscire un campione del mondo, se ne speriamo. Che arriva un campione. Però, purtroppo, questa gioventù da adesso sono nati stanchi. Molte stanchi, molto, molto, molto. E tu devi dare... No, 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 non cazzo, insomma. E io posso dare tutto quello sportivo. C'era un ragazzo, un ragazzo che lo ha allenato per un anno. A un certo punto mi dici, Nino, guarda, la palestra è lontana. E troppo lo compro di tutto, mi ha detto, ma scusami, io vengo dell'Africa, le portasci due. E ho capito, io vengo qua. E sono arrivato, ringrazio a Dio, arrivato al Purina, ai tempi del Pergine, arrivato al Magistro Square Garden due volte, due volte al Magistro Square Garden. C'è San Palas, Las Vegas, Sontobro di Morignano, Cionario Olandi, Tomas Enzi. E ho detto tutto. Grazie, Nino, la vacca. Grazie, Nino. Ma Nino deve stare qui perché stiamo aspettando, Emiliano non c'è? Emiliano non c'è? Ma ce l'abbiamo accanto un po' fino a dove. Eppure c'è il garage qui sotto, non è possibile. Grazie, Nino. E dov'è Emiliano? Non ce l'abbiamo. Quindi cosa facciamo? C'è qualcuno che ritirerà il premio al posto di... Glielo spediscono. Glielo spediamo. Allora grazie, Nino. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. No allo Stato. Complimenti.